Ben tornati, è stato un bruttissimo risveglio. Io non sono molto incline a le celebrazioni eccessive delle persone che non si conoscono, che non sono nella cerchia degli affetti, però la notizia della morte di Paolo Rossi questa mattina mi ha davvero colpito. Mi ha colpito perché nonostante all'epoca fossi troppo giovane, troppo piccolo, per assaporare a pieno quella che è stata la grandissima avventura di quell'Italia, ho vissuto i racconti, ho vissuto i filmati, ho vissuto la leggenda di quella squadra e la grande funzione sociale di quella vittoria, perché era un'Italia che ancora stava vivendo un momento storico bruttissimo, gli anni 70 sono stati anni molto duri da un punto di vista di tensioni sociali, da un punto di vista economico, un mondo che stava ritornando ad essere poco allegro rispetto a quell'entusiasmo, a quell'euforia post bellica. Quell'estate dell'82 è una squadra che arrivò ai mondiali nelle condizioni che sappiamo e che riuscì a superare il Brasile, l'Argentina, la Polonia, la Germania, dopo tra l'altro quell'avvio terribile con i tre pareggi nella fase a gironi, grazie anche e soprattutto all'apporto di questo signore, di questo eroe sportivo che oggi ci ha lasciati, purtroppo, dico purtroppo perché chiaramente era giovane, aveva 64 anni e in più con un male bruttissimo e devo dire che le parole di Trapattoni sono state le parole importanti, delle parole belle, delle parole paterne perché ha detto i giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori, un po' ricalcando quella frase che i genitori non dovrebbero seppellire i figli e insomma devo dire che c'è stata tanta commozione, c'è stato tanto trasporto per questo uomo che ci lascia e che ci lascia però un segno indelebile di speranza in un certo senso in questo periodo storico che stiamo vivendo, di grande tensione, di grande preoccupazione e credo che la figura e l'esaltazione dell'immagine di Paolo Rossi possa aiutare a far intendere che comunque dopo un periodo brutto c'è sempre un periodo bello e poi io nella mia vita sono una persona che vive sempre di più poi col passare degli anni consapevole che mentre le frecce tricolori fanno da sottofondo a questo mio video dicevo sono una persona che vive molto il momento perché sa che come dire la fregatura è sempre dietro l'angolo e questo è un po' il consiglio che posso dare a tutti cioè quello di consiglio da zio è quello di non farsi carico dei pesi del mondo ma di vivere con un po' di leggerezza e cercare di farlo perché la vita è già tanto difficile e ha già tanto bisogno e richiede tanta combattività che i momenti che sono belli vanno assaporati con le persone a cui vogliamo bene ma anche semplicemente un momento di larità, un momento di gioia, lasciamoci andare un po' perché insomma ce n'è bisogno. Ciao Paolo e grazie di tutto. Adesso riesce anche un po' complicato parlare di altre cose ma cercheremo di farlo dopo questo mio piccolo tributo a questo personaggio, a questo campione del mondo che ci ha lasciati e vorrei parlare con voi chiudendo la questione diciamo del colonialista offeso. La questione del colonialista offeso fa riferimento al video di ieri sera e mi ha fatto molto piacere aver trovato tante persone che la pensano come me e credo che sia giusto ogni tanto che anche noi che non siamo dei professionisti e quindi che non devono sottostare a determinate linee editoriali, a determinate regole, possano lasciarsi, come dire, possono aprirsi, non lasciarsi andare, possono aprirsi dando la loro opinione su un tema che non sia strettamente legato al calcio, credo che sia una cosa giusta. È anche un momento di confronto per vedere che ci sono delle persone che la pensano come me e altre persone che non la pensano come me e questo è molto bello del senso, come dico sempre, di questa cosa. Ebbene, voglio però tirare l'acqua al mio mulino a questo punto leggendo le parole di Jesús, l'allenatore, Jorge Jesús, l'allenatore del Benfica, al quale ieri ha dichiarato, va molto di moda a parlare di razzismo, ma io come libero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapere cosa è successo esattamente ieri a Parigi, ma diciamo che oggi qualsiasi cosa dici su un nero viene sempre presa come un segnale di razzismo, ma se dici la stessa cosa su un bianco allora non è razzismo, ormai nel mondo ha preso piede un certo tipo di onda. Mi ha fatto ricordare una battuta di Beppe Grillo negli anni 90, non so se fosse il 93 o 94, nel famoso spettacolo in due serate trasmesso dalla RAI, quello della Telecom, vi ricordate, quello dei Tergicristalli, insomma tutta quella cosa lì. Il grande ritorno di Beppe Grillo prima che, come dire, anche lui prendesse strade strane, bene, e Beppe Grillo durante quello spettacolo tirò fuori la questione dei panda, non so se ve la ricordate, disse un giorno, adesso facciamo tanta campagna sui panda, un giorno la Cina apre i confini e scopriamo che ci sono vallate piene di miliardi di panda con la nostra faccia sulle loro spillette, perché nel frattempo ci saremo estinti noi, mi ha fatto venire in mente questa cosa qua. Spero intanto che i parrucchieri non si offendano, la categoria dei parrucchieri non si offendano perché è stata tirata in ballo da Galtieri, allenatore del Lille, ieri dicendo non manderò in campo dei parrucchieri perché vogliamo arrivare primi nel girone, quindi speriamo che adesso il comitato dei parrucchieri non tacci il nostro amico Galtieri di razzismo, ma in ogni caso questa sera giochiamo contro il Lille, una partita dove ci saranno tantissime seconde linee, tra l'altro la notizia di poco fa è che Calullu giocherà in difesa al posto di Gabbia insieme a Duarte, poi giocherà Daniel Maldini, Colombo, Auge, giocherà Tonali, giocherà Krunic, Dallò, quindi un sacco di turnover, come giusto che sia, però credo che questa sera la partita abbia comunque un punto di interesse intanto nel vedere proprio questi giocatori che di solito non sono impiegati come titolari e poi per il fatto che dobbiamo provare ad andare a vincere, perché le parite europee sono sempre partite affascinanti, perché consentono di fare esperienza e perché per affrontarle in un certo modo ci vuole la giusta tensione mentale e questa tensione va trovata anche nelle partite meno importanti, delle partite che non sono decisive, anche se in realtà poi questa sera diciamo che tra primo e secondo posto ballano non solo dei soldini, ma ballano anche poi le possibili avversarie nel sorteggio di lunedì che seguiremo in diretta in corso della live. Tra le varie avversarie che retrocedono dall'Europa League, tra l'altro Murigno ieri ha detto le stesse cose che penso io, cioè ha detto che è ingiusto che dalla Champions scendano delle squadre in Europa League, ecco che noi potremo pescare se non arriviamo primi stasera, quindi se Lille batte il Celtic, a prescindere dal nostro risultato, potremo prendere tra quelle scese dalla Champions lo Shakhtar Donetsk, l'Ajax, il Bruges e il Manchester United. A me va bene una qualsiasi, non mi interessa più di tanto, anzi meglio sarebbe trovare un avversario già tosto, trovare un Manchester United che comunque in questo momento è assolutamente alla nostra portata, ma in ogni caso insomma se invece arrivassimo primi la scelta ovviamente oltre a tutte quelle dell'Europa League sarebbe tra Salisburgo, Olympiacos, Krasnodar e Dinamo Kiev. Intanto facciamo i complimenti all'Atalanta perché qualificarsi per due anni di fila agli ottavi di finale di Champions League in un girone difficile con Ajax, Liverpool andando a vincere a Danfield, insomma è stata veramente una grande impresa anche con tutte quelle cose umorali un po' che erano girate prima della partita, devo dire faccio i complimenti. E un po' diciamo che l'Inter, l'Inter non faccio i complimenti a Conte per come si è espresso nel dopo partita anche se posso comprendere in un certo senso la sua frustrazione, non comprendo però la maleducazione, quella non ci deve mai essere come ha detto giustamente Capello nel post partita Sky, noi abbiamo un compito anche di essere disponibili nei confronti dell'interlocutore perché fa parte del nostro lavoro, l'Interieri ha fatto tutto ma non abbastanza per riuscire a venire a capo dello Shakhtar Donetsk che comunque non è riuscito a battere in due partite, ha vinto una sola partita nel girone, un girone strano, un girone che ha promosso Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, in ogni caso l'Inter è fuori da tutto e adesso per noi questa potrebbe non essere una buonissima notizia nel senso che si concentreranno sicuramente tanto sul campionato e lotteranno a meno che lo spogliatoio non imploda dopo questa avventura che lo stesso Andanovic ha confermato non essere all'altezza dell'Inter, non siamo ancora da Champions League, i risultati parlano chiaro. In ogni caso vedremo questa sera cosa succederà, si gioca alle 9 in diretta solo su Sky, vi do questa notizia, questa informazione di servizio, ripeto una partita da guardare per i giovani e per capire sempre quel discorso di mentalità di come va affrontata una cosa, è una competizione europea che comunque è una competizione importante. Voglio chiudere questo video con una piccola annotazione sulla questione Soboslai, ieri sera ha giocato, tra l'altro il Salzburgo nel primo tempo ha fatto anche bene pur mangiandosi un sacco di gol contro l'Atletico Madrid per poi soccombere 2-0, Soboslai anche ha fallito un gol abbastanza clamoroso e non è il primo in Champions League ma in ogni caso non ha importanza ragazzo giovane deve fare esperienza, si continua a parlare di lui al Milan, ora io non lo so se effettivamente arriverà, dubito in questo momento che il Milan sia in testa a meno che accordi precedenti non siano già stati presi ma in ogni caso l'investimento sarebbe un investimento importante, ci sarà da capire un po' con quali logiche e con quali possibilità si svilupperà il mercato del Milan, un mercato che non dovrà essere un mercato di sforzo come ho letto da qualche parte, il Milan è primo, va fatto uno sforzo, no non va fatto uno sforzo, va fatto un investimento, cioè c'è da capire fino a che punto il nostro bilancio e le volontà ovviamente della proprietà ci consentono di muoverci per andare a rinforzare questa squadra, è molto semplice, ci sarà sicuramente qualche operazione in uscita ma non è improprio parlare di sforzo, lo sforzo è una cosa che diciamo fai quasi al limite delle tue possibilità, noi dobbiamo ragionare in ottica di bilancio, dobbiamo ragionare in ottica ripeto di quello che possiamo fare, riguardo alla questione Soboslai sostituto di Cialanoglu mi permetto come dire un pochino di dissentire di questa cosa e cioè nel senso che io li vorrei entrambi, cioè mi piacerebbe avere Soboslai come fantasista esterno nel tridente sotto la punta e Cialanoglu come trequartista perché attenzione sono due giocatori molto diversi, io l'ho visto anche in queste partite di Champions League e Soboslai non ha ancora la maturità per fare il lavoro che fa Cialanoglu, a parte il fatto che un giorno parleremo di quali sono i trequartisti che hanno la maturità di fare il lavoro di Cialanoglu, cioè quali trequartisti sono in grado di assicurare non solo la qualità in certi momenti ma eventualmente nel caso in cui non arrivi alla qualità c'è la quantità perché questo non si può negare al nostro numero 10, sicuramente il suo lavoro è importante in fase di sviluppo della manovra offensiva ma è altrettanto importante in fase di copertura, infatti il suo lavoro prezioso nell'arco dei 90 minuti. Quindi io non andrei alla sostituzione uno su uno, andrei piuttosto all'implementazione della rosa, cioè se dovessi scegliere li vorrei entrambi perché ripeto sono giocatori con caratteristiche diverse, allora a meno che nella testa dei dirigenti, dell'allenatore non ci sia un'alternativa a ciò che abbiamo visto fino ad ora, cioè un piano gara diverso che non sia il piano B di Conte che nessuno ha capito quale fosse, ma un'idea di futuro prossimo del Milan, diverso da quello attuale, quindi con una ridisposizione dei giocatori piuttosto che di ruoli, piuttosto che di compiti, allora in quel caso potremmo discutere di Soboslai al posto di Cialanoglu. Io in questo momento toccare in maniera così profonda una zona importante del campo in riferimento al lavoro che faccia la Noglu, che voi sapete non è in assoluto il mio giocatore preferito, però è un giocatore che apprezzo molto per l'impegno. Meno l'ho apprezzato quando ha parlato di certe cose, forse meno lo apprezzo se effettivamente è coinvolto nella questione rinnovo alle cifre che si sono lette, ma anche lì è tutto da capire, ma in campo ho spesso sottolineato quanto il suo lavoro, anche in partite che a molti di voi sono sembrate negative, quanto invece il suo lavoro fosse importante proprio in fase di aiuto a tutto quanto. Quindi andrei all'integrazione e non alla sostituzione, dovendo scegliere. Se l'alternativa in questo momento, se fossi costretto a scegliere l'alternativa, quindi mi dicessero Cialanoglu se ne va, dobbiamo prendere qualcun altro, sia Soboslai, ma nel caso in cui il Milan venga rivisto e ripensato in un modo che la mancanza del lavoro che fa adesso Cialanoglu possa essere sopperita dal lavoro di qualcun altro attraverso una nuova costruzione, un Milan un po' diverso da quello attuale. Aspetto le vostre considerazioni e ancora ciao Paolo.